il piatto lei è il posto di mattina aiutano Dimitri apertura, Gabriele Gabriele perché di esterno e stiro e stiro e stiro e colo e colo con la lette dentro Massimo Massimo e colo 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 a a a a No, no, no! No, no, no! I PRIME! Oh Sì, André? Sì, André! Copri Andre, copri questa palla Federico 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 Ciao ragazzi Grazie a tutti. Vogliamo un applauso?